con questo video tutorial andiamo a vedere come docenti personale ata dirigenti scolastici e dunque personale scolastico in generale può aderire alle agevolazioni per i viaggi i trasporti dunque attraverso le compagnie aeree i treni e anche per gli sconti e le agevolazioni economiche per gli agriturismi associati alla col diretti entrando nell'area riservata delle istanze online nella pagina dell'om delle istanze online sull'area riservata sulla sezione area riservata scendete fino a agevolazioni per il personale scolastico e ministero cliccando su questa voce andrete entrerete proprio nel nell'area di agevolazioni per il personale scolastico e ministero dell'istruzione del merito che è attiva da lunedì 9 ottobre 2023 in questa sezione sono contenute alcune agevolazioni promosse dal ministero dell'istruzione del merito per consentire ai docenti agli educatori ai dirigenti scolastici al personale amministrativo tecniche ausiliario della scuola e del ministero la fruizione di beni e di servizi le misure che seguono fanno parte di un piano di welfare che il ministero ha avviato e intende progressivamente potenziare vediamo appunto scendendo che le aziende che già sono associate sono ita airwise trenitalia gruppo delle ferrovie dello stato italiane italo che sempre riferito ai trasporti aereo aeroporti di roma e col diretti alla fine leggendo tutte le descrizioni degli accordi e avendo andando su accedi ai vari link di attivazione potrete avere le agevolazioni si ricorda che in fondo a questa pagina nella voce stampa facendo stampa otterrete di seguito il documento necessario per usufruire delle agevolazioni infatti cliccando su questo documento si aprirà la testazione del ministero dell'istruzione del merito che certifica che la persona indicata appartiene al personale al personale dell'istruzione del ministero dell'istruzione del merito chiaramente ogni gruppo di riferimento ad esempio trenitalia basta fare accedi e seguire la compilazione per poter avere l'agevolazione per esempio per trenitalia bisogna sapere che sia necessità di avere di essere titolari di una carta freccia nel caso non ci si fosse titolare di una carta freccia bisognerebbe registrarsi per diventare titolare della carta freccia in modo da poter poi usufruire degli sconti speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri delle spettatori e ne faremo altri più specifici per venire incontro alle vostre esigenze arrivederci e a presto grazie a tutti